Rolli, molto più di uno spazzolino Legato Michele Bernini Rolli è uno spazzolino da denti usegetta Abbiamo sviluppato in parecchi anni Proprio per dargli una geometria molto compatta Per renderlo discreto e nello stesso tempo molto efficace Come vediamo da questa confezione Del diametro inferiore a quello di una monetina da 20 centesimi Possiamo anche vedere in questo campione La macroanatomia è formata da circa 300 settole anche di più Un materiale estremamente biocompatibile Con una piacevolissima sensazione di fresco e un aroma alla menta Il movimento della lingua, una volta inserito nel cavorale Produce la rimozione meccanica di resti di cibo e placca dentale Il prodotto è stato lanciato da qualche mese nel canale farmaceutico Quindi in tutte le farmacie Dove potrete trovare questa pratica confezione da 6 rolli Dentro un igienico blister Proprio è un farmaco a tutti gli effetti Mentre adesso stiamo cercando di lanciare il prodotto nel canale bar e ristoranti Indubbiamente essendo un'azienda italiana il primo progetto sarà quello di affermare il prodotto nel mercato italiano Come vi ho detto in quello farmaceutico e in quello della ristorazione E poi ovviamente lanceremo il prodotto anche a livello europeo e perché no nel mercato americano Un saluto ai telespettatori di Backstage VIP e speriamo che tutti voi possiate provare rolli e che capiate la sua efficacia Conosci rolli? Rolli no! Cos'è? Ah è quello lì che mi dicevi prima Assaggiamo questo rolli Intanto ti do un suggerimento visto che sei cantante ora Un buon cantante non può non avere in tasca sempre un rolli Quindi uno spazzolino per lavarti i denti dappertutto e in più per schiarirti la voce È fresco! È fresca questo rolli Sembra una caramella che non finisce mai perché è fresca Ma poi allo stesso tempo devi praticamente masticarla intorno ai denti per pulire Allora la prossima volta quando lo farete a qualcun altro o me li invitate e mi mangio starolli qui questo spazzolino Prima mi fate mangiare un bel piatto di cigoria Siamo in Puglia Allora ho orecchiette Ho orecchiette Ho un bel sugo con le cose che si incazzano nel mezzo ai denti così Proveremo rolli a tutti gli effetti Comunque fresca e fresca Morbida e morbida Meglio di così Sia Kate A te la linea Ciao Ciao ragazzi Grazie Odeon Grazie Backstage Ciao E io sono qui con l'amministratore del Rolli Molto più di uno spazzolino